un saluto a voi seguaci di all games italia io sono ojo e oggi torniamo a parlare di rise of industry il gestionale creato da da per penguin studios è giunto adesso a luglio 2018 alla sua versione alfa 6.1 in realtà questa è una versione beta dell'alfa però insomma le novità che sono introdotte verranno presto rese disponibili anche nella branch principale ovviamente chi age al gioco può scegliere la beta per vedere queste novità che comunque sono ancora in lavorazione quindi attenzione a non farvi ingannare che magari poi scompaiono all'improvviso torno a parlare del gioco perché con l'alfa 6.0 sono state introdotte diverse novità la prima delle quali è la difficoltà del gioco che è molto aumentata rispetto alla 5.0 se ricordate con la 5.0 avevo fatto una partita a livello veteran che ai tempi era il più elevato ed ero riuscito con con modestia e una discreta facilità a ottenere profitti stabilmente scordatevi quei tempi felici perché la 6.0 introduce il livello di difficoltà start up che nonostante diverse partite sono riuscito a domare solo una volta con questa partita che stiamo vedendo e solo perché ci sono state delle situazioni a me favorevoli diciamo che la difficoltà del gioco non è tanto perché viene della concorrenza che ancora manca in questo gioco ed è una cosa che secondo me gli sviluppatori penso ci stiano pensando poi ne parliamo un po più attentamente però al momento non è ancora stata attivata ci sono le città che costruiscono aziende ma non sono in diretta concorrenza con noi dicevo la difficoltà non è tanto la concorrenza oppure altre cose semplicemente una cosa finanziaria e soprattutto riguarda i costi di gestione e delle aziende e di distribuzione dei beni prodotti con start up sono talmente elevati mi pare tre volte in più per la gestione delle aziende e cinque volte in più per la gestione del trasporto a quel punto ho provato diverse filiere e nessuna di queste è riuscito a garantirmi un reddito stabile e quindi sono sempre dovuto andare in bancarotta più o meno come fare per sopravvivere a livello start up allora prima di tutto io sconsiglio di giocare a livello start up se volete avere una partita organica e interessante start up almeno per quello che ho provato io in questo gioco è giusto per mettervi alla prova ma non dà un senso di partita goduta secondo me e cosa fare io ho avuto la fortuna di trovare due città abbastanza grandi street street che vedete qua e anche breakfast e entrambe avevano un negozio di parti di automobili questo negozio di parti di automobili ha fra le sue fra i suoi oggetti e i lunotti i finestrini che possono essere creati usando vetro vetro che si ottiene tramite carbone e sabbia cose piuttosto facili da ottenere carbone sabbia anche qua sabbia e quindi sono abbastanza economiche circa creiamo il vetro nelle nostre qua e poi basta ricercare il lunotto eccolo qui e basta fornirgli vetro quindi abbastanza semplici da creare le due città sono abbastanza vicine per cui sono riuscito a fare sì che riuscissi a creare questa filiera dei lunotti diciamo così che ogni mese più o meno mi garantisce un milione 6 di introiti superiore alle mie spese totali di 854 mila dollari questo può succedere solo perché ci sono due città che servo con la mia produzione se fosse una sola il livello start up anche una richiesta limitatissima dalle parte delle città per cui vedete il car parts shop di street richiede solo un lunotto ogni 15 giorni ciò significa che posso al massimo guadagnare se ci fosse una sola città 760 mila questo significherebbe non avere abbastanza dollari per superare le spese totali in realtà probabilmente li avrei lo stesso perché avrei anche meno aziende attive però diciamo che i lunotti forse sono la cosa più vantaggiosa quindi se fate una nuova partita cercate una città che abbia il car parts shop che è un negozio di secondo livello quindi la città deve avere almeno 100 mila abitanti per avere uno di questi negozi quindi cercate una abbastanza grande che abbia questo se non c'è avete un po difficile sinceramente anche questo cardboard potrebbe essere fattibile perché viene ottenuta grazie al heavy pulp potrebbe essere una interessante alternativa effettivamente potrei anche provarci ho qua un lo vediamo dopo intanto parlo dei livelli di difficoltà comunque se volete giocare a un livello difficile ma non frustrante vi consiglio di fare selezionare startup e ridurre i costi di esercizio e di distribuzione anche solo di una tacca dovrebbe bastare per garantirvi una partita sì difficile più difficile challenging ma senza la frustrazione dover correre dietro alle finanze per costruire questo complesso ho dovuto chiedere prestiti alle varie città che possono essere chiesti cliccando sul nostro centro amministrativo oggi la ho genco questa tabella dei prestiti prendi un prestito e vedete c'è l'elenco di tutte le città del mondo con la quantità massima di prestito che possiamo chiedere e la lunghezza del prestito e l'interesse mensile minimo poi andrà ad aumentare se cerchiamo di allungare il periodo di pagamento questi prestiti non sono tutti uguali dipende molto dall'influenza che abbiamo sulla città per esempio con street non abbiamo 100 per cento la città molto grande quindi ci può fornire un prestito molto grande a bassi interessi con backfast qua che un po più piccola di street e abbiamo anche un'influenza minore come potete vedere qui abbiamo solo 15 milioni e un interesse molto più alto vedete ovviamente gli interessi vanno pagati mensilmente vanno a pesare sul nostro bilancio io ho fatto in modo di avere almeno 20 milioni tutti prestati da lì ho costruito questa cittadella del vetro e poi mi sono arrangiato per far sì che le vendite andassero a buon fine così da avere un guadagno ogni mese adesso il guadagno non avanza perché perché c'è una cosa un'altra novità in questa versione alfa 6.1 e sono i contratti i contratti sono richieste speciali che le città fanno e ci chiedono di fornire loro dei prodotti che noi produciamo quindi se non produciamo barili non ci chiederanno barili in questo caso vedete qua in alto a sinistra c'è un contratto attivo ci chiedono lunotti la città di loveborough che dovrebbe essere qua eccolo qui la città di loveborough ci ha chiesto 14 lunotti che dobbiamo consegnare ci va dato un anno di tempo e il compenso sarà di 8 milioni viene indicato il compenso perché saremo pagati solo quando avremo consegnato tutte e 14 le unità che ci sono state chieste di solito queste richieste vengono fatte a prezzi molto superiori rispetto al mercato di solito intorno dal 170 al 250 per cento in più cioè in più rispetto al prezzo normale quindi possono essere vantaggiosi ma possono essere anche un'arma a doppio taglio perché nel caso in cui malagurato caso in cui non riuscissimo a fornire la città in tempo verremmo penalizzati in termini di influenza che ci interessa abbastanza poco ma soprattutto in termini economici c'è una penale da pagare e quindi potrebbe rovinare una partita soprattutto nei livelli più alti di difficoltà i contratti sono generati più o meno casualmente fatto salvo il prodotto richiesto quindi può capitare che una città dall'altra parte del mondo ci chieda dei prodotti a quel punto vi sconsiglio vivamente di accettare il contratto perché non riuscirete mai a mai no penso proprio non riuscirete mai a riempirlo a meno di non usare forse zeppelin o qualcosa che non ho ancora visto questa è la seconda novità molto importante i contratti sono fondamentali nei livelli di difficoltà più alti e un'altra cosa è cambiata l'interfaccia come potete vedere il pannello della il pannello economico è rimasto più o meno lo stesso però vedete non c'è più l'iconcino con costruzioni e che apriva una finestra con le varie categorie adesso le categorie sono tutte qui riunite quindi raccoglitori fattorie fabbriche edifici logistici questo è un nuovo coso perché ne parlo tra poco edifici amministrativi ancora non sono attivi poi c'è anche il terraforming anche questa è una novità che qui è disattivato perché è un'opzione di difficoltà che si può attivare o disattivare vabbè duplicato e poi il solito bulldozer per spaccare le cose cambia anche la il tech tree che prima era diviso per ambiti per macro aree e inoltre dava dei bonus passando da un livello all'altro vedete c'è questa riga sottilissima tra una riga l'altra e questi sono i vari tier i vari livelli di ricerca una cosa che è sparita che mi dispiace sia sparita sono i bonus che venivano dati passando di livello forse qua è un po più difficile attivarli in quanto alcune alcune cose ricercate vengono considerati in vari ambiti per esempio qua siamo nell'ambito rurale cibo e abbiamo il grano ma il grano ricompare anche nella produzione dei liquori ovviamente dobbiamo ricercare una volta sola perché non è che dobbiamo ricercare due volte un campo di grano se già lo abbiamo e questo allora secondo me provoca qualche problemino soprattutto per la gestione delle fabbriche perché le fabbriche non hanno la possibilità di essere migliorate ne parliamo tra un attimo a differenza ancora della versione 5 punto dove la ricerca avanzava senza nostro intervento diretto qui siamo noi a dover dire quale ricerca attivare e quanto investire al mese facciamo per esempio allora cerco l'industria della carta che mi stava interessando prima allora paper mill ecco qua per esempio per costruire questa polpa pesante di cellulosa devo selezionarla mettiamo un attimo a zero la seleziono e qui compare nella casella della ricerca e i vari investimenti mensili meno investimenti ci saranno e più lenta sarà ricerca perché per fare levi polpo se non sbaglio sono 400 mila dollari quindi spendendo 100 mila al mese ovviamente sarà in quattro mesi spendendo 5 milioni in pochi giorni sarà fatta comunque si spende sempre 400 mila non è che se le hanno 55 milioni andremo a spendere 5 milioni e perderemo quindi 4 milioni 6 fa solo velocità diciamo così quindi può servire se siamo un po corto di denaro ma appena avrete più di 5 milioni comunque un reddito stabile si può tranquillamente andar qui per dare una botta veloce infatti vedete zack in tre giorni viene completata parlavo appunto delle fabbriche che secondo me vanno un attimo riviste uscire ok perché come insegna per esempio surviving mars un altro gioco che abbiamo gestionale che abbiamo coperto qua su old games italia alcuni edifici hanno dei boost dei miglioramenti che possono essere ricercati tramite ricerca e sviluppo e attivabili a piacere per esempio c'erano i mulini a vento della rigenerazione di energia elettrica che possono essere potenziati a o se necessario se invece non serve si possono spegnere quei quei miglioramenti lo stesso mi piacerebbe vedere qui dal momento che le fabbriche rimangono sempre costanti nella produzione fino alla fine del gioco diciamo che con l'aumento della domanda e altre piccole cose sarebbe bello poter migliorare anche le fabbriche come d'altronde si migliorano le fattorie e gli allevamenti fatemi vedere un attimo si vedete per esempio c'è un campi e raccoglitori possiamo aggiungere delle delle distese seminate oppure degli allevamenti perché di base sarebbero tre ma si può arrivare a cinque lo stesso per i raccoglitori d'acqua e di sabbia e di carbone eccetera eccetera sarebbe bello vedere qualcosa di simile anche nella industria naturalmente ha un costo se noi mettiamo un miglioramento quel miglioramento va pagato mese per mese oltre ad essere pagato in contanti cash sull'unghia quando decisiamo di attivarlo ecco questa è una piccola parentesi che spero verrà ascoltata dagli sviluppatori così da non dover costruire 20 fabbriche uguali giusto per dire ok questa è non abbiamo visto le varie novità manca solo l'ultima novità che hanno lasciato aperto qui per non dimenticarmene da questa versione alfa 6 punto c'è anche un end game game che prima mancava perché il gioco per come impostato adesso è più che altro un sandbox in cui non abbiamo vera concorrenza ma l'unico problema siamo noi e il la continua emorragia di denaro il gioco può effettivamente sembrare un po vuoto perché alla fine se non c'è concorrenza non c'è un end game sì c'è gente che gioca sandbox per tutta una vita però diciamo che è bello avere un obiettivo un qualcosa e in questo caso gli sviluppatori ha pensato di fare come esempio io penso sia solo un esempio la produzione di un prototipo di automobile sembra un po' peculiare come scelta perché se noi decidiamo di fare un'azienda semplicemente incentrata sull'agricoltura che ci frega a noi di fare un prototipo di automobile però diciamo che secondo me è una prova e siamo in un alfa d'altronde è una prova probabilmente quando il gioco sarà più sviluppato ci saranno diverse tipologie di end game e quindi avremo più scelta su come indirizzare la nostra industria per il momento c'è questo prototipo di auto che dovremmo costruire usando vari pezzi pezzi tra cui c'è anche il mio lunotto per cui io sto già pensando all'end game in questa partita ecco allora io direi che abbiamo visto tutto riguardo a questa nuova cosa se vi è piaciuto adesso io continuo a giocare un po però se vi interessa solo la parte relativa alle novità introdotte vedete anche la grafica migliorata secondo me di poco anche tutti gli edifici sono stati rivisti in qualche modo sempre con questa bella grafica low poli che mi piace molto anche i camion sono molto più frequenti perché vengono visualizzati anche quelli usati dalle città per trasportare beni beni che però non vengono venduti nei mercati che usiamo noi ma vengono semplicemente trasportati da una grossista all'altro ecco qua per esempio wholesaler da quale possiamo anche noi acquistare come avete visto nei video precedenti quindi non c'è concorrenza da parte delle città però almeno le città adesso iniziano a crescere anche autonomamente per esempio Radcliffe io non l'ho mai toccata ed è cresciuta e prospera perché c'è un bel giro di merci ok quindi abbiamo visto le nuvole che si muovono guardate che bello guardate questo mi piace molto e scusate se sono partito di nuovo per la tangente ok quindi abbiamo visto le novità se volete interrompere la visione potete farlo in questo momento posso accettare anche questa richiesta potete farlo perché io adesso continuerò a giocare proverò a sviluppare un'altra parte di automobile che sono questi pezzi di cartone non so come mai c'entrino con le auto però vedete costano 536.000 e potrebbe essere una ottima alternativa rispetto ai lunotti ho accettato un altro contratto ai contratti vabbè per essere completati vanno assegnati qui per esempio no vetro mi serve l'unotto 183 per esempio destination facciamo scegli destinazione qua non è cambiato contratti vedete due selezioniamo il grossista della città che ci interessa e gli diamo lo attiviamo altra novità che mi sono ancora dimenticato per cui spero stiate ancora guardando c'è anche questo livello di priorità per cui possiamo decidere di avere alcuni alcune destinazioni più prioritari rispetto ad altre ok ora davvero continuerò vedrò come se riusciamo a fare quei cardboard panels però se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale iscrivetevi anche ai nostri social su facebook twitter instagram eccetera e lasciate un commento se vi piace questo gioco se volete vedere video anche delle prossime alfa come dico ogni volta a me serve il vostro feedback perché di giochi da giocare ce ne sono tanti da giochi da mostrare interessanti ce ne sono ancora di più e quindi io non posso concentrarmi su un gioco unico se magari non vi interessa non vi saluto adesso ci saluto quelli che ci abbandonano però continuate a seguirmi giocherò ancora per una mezz'oretta giusto per capire come fare costruiamo un lumberyard e lo costruiamo sulla strada no allora vediamo dove farlo possiamo costruirlo qua in realtà tranquillamente ok adesso costruiamo i vari raccoglitori 1 2 e 3 poi costruiamo se l'autosave non ci desse fastidio ok allora ok per passato costruiamo il nostro paper mill la nostra cartiera ok e qui facciamo heavy pulp ho bisogno di acqua e di legno allora siccome l'acqua la sto usando anche per la industria della carne e della lana potrei tranquillamente fare un'altra pompa d'acqua tramite raccoglitori pompa d'acqua la costruiamo qui non da fastidio a nessuno e allora mettiamole qua arrottiamo ok ah qua ho sbagliato ah uffa non è sempre chiaro il verso allora raccoglitori d'acqua dov'è qua ok così va meglio facciamo la strada così mettiamo giù i suoi harvester i suoi raccoglitori allora ah mi ha fatto sparire vediamo se distruggendo la strada già costruita migliorano le cose al harvester no sono spariti i punti ah qua bisogna che riguardiate un attimo ah no errore mio scusatemi perché sono fuori dalla zona di influenza le zone di influenza sono diventate molto più chiare avrebbe un po' reso più chiaro secondo me ok così siamo a posto costruiamo le nostre strade ok allora questo lo devolviamo completamente alla cartiera factories paper mill voilà quanta cosa produce la paper mill produce due possiamo dargli due destinazioni una sola vabbè allora andiamo qua ah scemo io scemo io perché devo costruire due due cose factories ne me ne servono due di paper mill perché poi devo costruire però per il cardboard che vado subito a cercare qua ok quindi water siphon siphon factories 2 paper mill 2 ecco qua dovrebbe bastare la ricerca continua sto perdendo soldi naturalmente perché ecco qua il contratto è stato completato ho guadagnato 9 milioni di dollari e vedete che sono tornato molto inattivo posso ora di nuovo dare ordine alle mie aziende di seguire invece il contratto verso street ton allora contracts ok 182 penso che lo stia già facendo 182 no allora contratto quello che invece lo sta facendo è l'183 ah beh possiamo anche attivare ok questo che è molto più facile vero no ok contratto però qua ok ho tolto la musica perché non vorrei mai ci fosse qualche brano registrato che fa comparire la monetizzazione da parte degli eventi di ritto siccome comunque noi non ci guadagniamo nulla e spero non ci siano pubblicità durante i nostri video non vorrei che apparissero solo perché c'è musica all'interno delle nostre produzioni musica non nostra ovviamente ecco già abbiamo completato il contratto e possiamo tornare a vendere i nostri lunotti ai ai vari ai vari negozi di auto che abbiamo intorno lunotto 1 lunotto 2 lunotto 3 allora questo commercial ci sono comparsi anche altri negozi di lunotti ma sinceramente la distanza è un po' proibitiva in realtà guadagnerei lo stesso perché ce la farei però per il momento potrei però effettivamente fare l'unotto 1 l'unotto 2 per le cose vicine e mandarli un po' lontani gli altri due country reach destination no troppo lontano basta si vede che con le auto dovrei creare una trade route che faccio sempre difficoltà a creare ma in realtà servono non sono così convinto che servano le trade route dovrei studiarmele un po' ah una cosa importante se volete tornare dove c'è il vostro quartier generale premete H ci ho impiegato un po' di tempo a scoprire quale fosse il tasto premete H e il gioco tornerà esattamente al centro del vostro impero ok qui allora abbiamo la carta che viene prodotta se non erro erro sì ovviamente perché devo selezionare la destinazione refactories una qui e una qua tie inizio la produzione vediamo di averne abbastanza ovviamente devo fare una ricerca per avere anche più estrattori di legname e allora facciamo la ricerca subito tanto di milioni ne ho abiz abiz land harvester ce li ho già si posso tranquillamente farlo eccolo qua posso costruirlo qua se no ma è vicino al wood no vabbè pazienza lo faccio qua senza problemi tanto le risorse non vengono consumate risorse primarie ok vediamo come va la produzione bisogno di tanto legname e facciamo anche una bro dove bro no troppo troppo è l'altra è è dall'angolo opposto del mondo no 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 torniamo alla casa base zic visto facile allora costruiamo un altro lumber mill sì buonanotte un altro paper mill un'altra cartiera la possiamo mettere anche qui sì tanto la produzione mensile è di 2 ok allora mandiamo la polpa di cellulosa qui a cartoni cartoni pannelli tiè uno quindi possiamo mandarlo a questa fabbrica tiè anche la paper mill 2 farà lo stesso cioè l'invio verso qua ok e lui la vende commercial questo qua che è più vicino perfetto vediamo quando inizia la produzione ce ne vogliono ben 8 che è successo c'è un inondazione che diminuisce del 75% la produzione nelle fattorie vabbè ci interessa poco perché le fattorie non sono certo la nostra fonte principale di guadagno qua un'altra offerta verso chillham forse è lontano forse è vicino non si può sapere troppo lontano grazie vediamo un attimo il prototipo dell'automobile e come facciamo a ottenerlo tra l'altro premendo su una cosa da ricercare il sistema vedete fa la ricerca automatica su tutte le cose che possono servire in questo caso ho bisogno di fili di rame poi di diodi o diodi radio posso anche interrompere in realtà perché queste costano una marea di soldi non vedo perché dovreste vendere tutti questi soldi in ricerca perché non è che sia ancora stabile vero come guadagni ok vediamo se la produzione di pannelli di cartone è cominciata si suppongo di si si ne abbiamo i prodotti 2 il mese scorso dovrebbero essere in vendita qui eccolo qua perfetto abbiamo fatto 2 milioni e 5 il mese scorso perfetto ottimo quindi guadagniamo un milione al mese quindi mi pare che la produzione di pannelli di cartone sia ancora più efficace dei lunotti cosa da tenere ben a mente per le prossime partite vediamo dianui quanto mi darebbe per 12 per 13 pannelli mi darebbe 10 milioni di dollari però forse lontana si troppo lontana quindi non ancora si tra l'altro in questa beta dell'alfa 6 punto è molto più raro che la città vicina chieda un contratto stipuli un contratto con noi mentre nella versione che adesso c'è su steam e non beta sempre dell'alfa praticamente le città vicine ti fanno un sacco di contratti quindi è più facile la versione che c'è principale su steam qua si sta ancora facendo i bilanciamenti quindi è forse normale però spero non sia sempre così si vuole un po' più di contratti da parte della città che diciamo serviamo con la nostra industria però insomma vabbè ecco qua chiede ci chiede di costruire dei diodi diodi però solo perché li abbiamo ricercati in realtà non abbiamo ancora la produzione necessaria per farli stiamo producendo perché ci vogliono 45 giorni ecco perché non sempre guadagno tanto quanto vorrei appunto i diodi quanto costano scusatemi ah non mi da vediamo il libro delle ricette cerchiamo diodes ho bisogno di due vetri e anche di rame stavo sbadigliando scusate rame che non abbiamo in questa parte della mappa abbiamo ferro rame che però c'è da quest'altra parte della mappa e comunque viene venduta da la città di Buckfast se non erro devo cercare il wholesaler ecco qua rame viene venduto 8300 ovvero al doppio del prezzo di mercato quindi poco più di penso che per estrarlo e distribuirlo ci vogliono minimo 3500 dollari quindi pagherei 5000 dollari in più per il rame e mi servono dovevo fare prima il filo di rame un po' complicato però vediamo adesso come va la gestione della carta ok ci voleranno un po' più di cartiere probabilmente quanta legname abbiamo 18 potrei anche costruire una terza cartiera per servire il produttore di pannelli andiamo quindi su factories paper mill potrei anche usare in realtà questo vediamo se funziona si perfetto bene ripolp lamberyard dial paper mill 3 paper mill e tu a tua volta forse anche l'acqua ha bisogno di un altro estrattore che andiamo a piazzare qui ok strada posso fare anche così non so perché tornare indietro ecco ho fatto nu 2 e allora acqua distribuisci anche al paper mill 3 e ci siamo ti ho dato l'ordine se tu sei a posto se ok che altri buoni beni ci sono qua venduti a street vediamo allora c'è il home goods telefono un milione e sei vediamo quando ci vuole di odio e plastica la plastica lo teniamo con gas e oli un po' complicato light bulbs che qua un po' complicato come vedete qui c'è qualcosa no strano però vedete il rame per fare degli delle lampadine che con quali quando hanno 500.000 ho bisogno di praticamente due filiere diverse rame e vetro per fare i pannelli di cartone che guadagno con i quali guadagno 530.000 ho bisogno di una filiera sola che è quella della carta quindi fa ancora forse bilanciato un po' il pool dei prodotti e dei loro guadagni allora peccato non si espand ah perché ovviamente non si può espandere dall'altra parte in quanto questa è la regione di stritten ma cosa potrei fare io a questo punto 638.000 questi continuano a chiedermi dio di allora io però 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 potrei anche decidere di crearli sti di odi ma qui dovrei avere già una mezza licenza credo questa strada devo verla fatta io credo vediamo com'è qua la situazione ah no vabbè potrei anche spendergli i soldi sono già 30 milioni sono una miera di rame però il rame lì è un po' complicato forse da raccogliere non qua vediamo un attimo potrei pensare di fare la ferrovia ma magari la faccio in un altro video allora diciamo che avete visto ho fatto una nuova filiera che mi fa guadagnare il mese scorso ho guadagnato un milione tondo tondo e per cui io potrei anche lasciare il gioco andare avanti così e guadagnerei tanti tanti soldi e poi potrei dedicarmi alla creazione del prototipo il puntaggio finale dato dalla velocità con cui si raggiunge l'obiettivo del prototipo moltiplicato per il coefficiente di difficoltà che in questo caso è 245% allora vediamo cosa potrei fare allora diciamo così lasciate un commento se volete vedere anche la gestione delle trade routes che secondo me non sono tanto utili ma finché rimango in una regione ovviamente non sono utili ma potrebbero tornare utili se voglio espandere il mio dominio e anche per la ferrovia io vorrei provare a fare la ferrovia per poter spostare carbone e rame rapidamente in modo tale da creare questi benedetti queste benedette produzioni avanzate tipo le lampadine e così via un altro passo verso il prototipo per chi è rimasto con me fino a questo momento ricordo che io sono Ojo e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video forse con Rise of the Industry forse no chissà a voi la scelta grazie a tutti e grazie a tutti Grazie a tutti.